Musica Benvenuti con l'informazione di Unica TV con il notiziario dell'edizione di Sondrio. Andiamo subito a vedere i titoli principali di oggi. È il record storico per l'export agroalimentare che nel 2023 raggiunge il valore massimo di sempre. A livello nazionale il presidente sondriese di Coldiretti, Bambini. Le Olimpiadi saranno un'occasione per migliorare. E proseguono le ricerche di Ivano Camarri, geometra a settantenne di Mantello, scomparso un mese e mezzo fa. Indagano i carabinieri ma anche gli agenti della polizia accantonale in Svizzera. E torna la vittoria, la nuova Sondrio Calcio nella prima gara con mister Dario Bolzano in panchina. I valtellinesi vincono 1-0 sul Castelleone e restano a 4 punti dal primo posto in eccellenza. E ora andiamo a vedere i servizi. È il record storico per l'export agroalimentare che per il 2023 raggiunge il valore massimo di sempre a 64 miliardi con una crescita del 6% rispetto al precedente anno. È quanto emerge dalla proiezione degli Coldiretti sulla base dei dati stat relativi ai primi 11 mesi. Un record trainato da un'agricoltura nazionale che, sottolinea l'associazione di categoria, è la più green d'Europa, una rete diffusa lungo tutto il territorio. Per sostenere il trend di crescita dell'enogastronomia nazionale, serve ora agire sui ritardi strutturali dell'Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra sud e nord del paese, ma anche con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo, commenta il presidente di Coldiretti Sondrio, Sandro Bambini, nel sottolineare l'importanza di cogliere l'opportunità del PNRR per modernizzare la logistica nazionale, che ogni anno rappresenta per il nostro paese e prosegue un danno in termini di minore opportunità di export, ma è importante lavorare anche sull'internazionalizzazione per sostenere le imprese che vogliono conquistare nuovi mercati e rafforzare quelli consolidati. L'obiettivo è portare il valore annuale dell'export agroalimentare a 100 miliardi nel 2030. Un'occasione imperdibile sarà il ruolo di protagonista che la provincia di Sondrio, insieme all'Alta Lombardia, potrà avere in occasione delle Olimpiadi Invernali e della relativa roadmap. Scomparso nel nulla da un mese e mezzo, non c'è traccia di Ivano Camarri, 70 anni, ex vice sindaco di Mantello, sposato e padre di due figli. Geometra con studio a Dubino è sparito improvvisamente facendo perdere ogni traccia. Il telefono cellulare spento, l'auto su cui viaggiava, una Opel Astra grigia, ripresa per l'ultima volta dalle telecamere di videosorveglianza, intorno alle 13 del 12 dicembre alla rotonda centrale di Dubino. Poi il buio. Quel giorno Camarri ha raggiunto come ogni mattino il suo studio, ha aperto l'ufficio, ha svolto alcune commissioni, si è recato in banca, ma all'appuntamento in un cantiere nella frazione di Novate, dove era atteso per un sopralluogo, non è mai arrivato. I familiari hanno sporto denuncia, le ricerche non si sono mai fermate. I militari della stazione di Chiavenna, guidata dal capitano Giuseppe Antonicelli, hanno visionato le immagini delle telecamere, ma l'unica traccia resta il passaggio dell'auto a Dubino. Sono stati perlustrati i boschi della zona ed entrambe le sponde dell'Ario, senza trovare segni di possibili incidenti. L'ipotesi su cui si indaga al momento è quella di un allontanamento volontario, ma molti particolari restano poco chiari. Nessun prelievo sul conto corrente, il cellulare spento, della vicenda è stata interessata anche la polizia cantonale. L'uomo potrebbe aver raggiunto la Svizzera attraverso il passo del Maloia. Camarri è alto 1,70 m, ha stempiato chi Castagna, al momento della scomparsa, indossava occhiali rotondi con montatura blu. Dalla famiglia l'appello a segnalare possibili avvistamenti. Aveva con sé 200 grammi di ascisce e 7 di cocaina, per questo un 28enne di Peglio è stato arrestato a Samolaco nel pomeriggio del 28 gennaio. Una pattuglia del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Chiavenna sulla Statale 46 ha fermato un'autovettura condotta da un giovane italiano, lavoratore oltre confine, è in transito poiché diretto proprio verso la Svizzera. I carabinieri hanno deciso di fermare il veicolo e dato l'atteggiamento sospetto e teso del conducente, hanno effettuato un controllo accurato nel corso del quale sono stati trovati e sequestrati circa 200 grammi di ascisce confezionati in due panetti e circa 7 di cocaina divise in dosi. L'uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto al carcere di Sondrio. E cambiamo argomento, gli alpini valtellinesi ricordano la battaglia di Nikolaevka, domenica mattina le penne nere del territorio, si sono ritrovate a montagna per celebrare gli 81 anni dalla battaglia simbolo della ritirata di Russia, una manifestazione che ha visto la presenza dei sindaci di Sondrio, poggiridenti e montagna, oltre a centinaia di alpini. Dopo la cerimonia laica, il gruppo si è spostato nella chiesa dei frati di Kolda, dove è stata celebrata la messa, ufficiata da padre Mario Bongio. E ora proseguiamo con i servizi. Gli Winter World Master Games si sono conclusi con un successo sportivo di pubblico, un evento che ha visto Valchiavenne e Valtellina protagoniste, ma anche Sondrio, città in cui si è tenuta la cerimonia inaugurale. E il 2024 del capoluogo è partito proprio con il botto, con la sfilata degli atleti in Piazza Garibaldi, pochi giorni dopo la conclusione degli eventi natalizi. E ora la città si prepara per il Carnevale. Domenica 4 febbraio, infatti, ritorna il Carnevale dei Ragazzi, organizzato dalla comunità pastorale di Sondrio, con il Sostegno del Comune, una grande festa che unisce i residenti, dai bambini e i ragazzi fino agli adulti, per celebrare il periodo più scansonato dell'anno, durante il quale si liberano creatività e allegria. Sosteniamo la manifestazione e il lavoro appassionato dei volontari, garantendo un contributo economico e un supporto tecnico e logistico, spiega l'assessore agli eventi Francesca Canovi. Con l'assessore alle politiche giovanili Raffaella Volpatti, ci stiamo confrontando con gli organizzatori, affinché i cittadini possano celebrare, nel migliore modo possibile, il rito del Carnevale nelle vie e nelle piazze. Il clou è previsto nella giornata di domenica, ma già il sabato pomeriggio non mancheranno le sorprese. Dalle 10 di domenica la città sarà poi pacificamente invasa da tante maschere che troveranno nelle piazze e nelle vie del centro cittadino stand gastronomici e street food. La sfilata dei carri e dei gruppi mascherati partirà alle 14 da San Rocco per raggiungere Piazza Garibaldi, dove dalle 16.30 si svolgerà la premiazione delle creazioni più belle in attesa del Carnevale dei Ragazzi, prosegue inoltre il lavoro dell'amministrazione comunale in vista degli eventi che animeranno la città in primavera, in estate e in autunno. La nuova Sondrio interrompe il digiuno di vittorie che durava dal 3 dicembre in casa contro il Castelleone e finisce 1-0 grazie alla rete di Marras. Una vittoria importantissima per il morale, ma anche per la classifica, visto che i valtellinesi rimangono a quattro punti dalla vetta nel girone B di eccellenza. Il nuovo allenatore Dario Bolzan fa debuttare il greco Rafael Cozzinis e ritrova Rodriguez tra i pali, Cugol e Busto, tutti e tre rientranti da squalifiche. Sono i padroni di casa a condurre il match, all'undicesimo e Busto a calciare una punizione invitante, ma nessuno raccoglie al venticinquesimo e Viviani a proporsi sulla destra e indirizzare un bel cross neutralizzato da Mazzetti in presa alta. Il forcing biancazzurro dà i suoi frutti al trentunesimo, quando un'ottima combinazione tra Bagi e Rios premia l'inserimento di Martinez, che serve Marras per il gol del vantaggio. Al trentanovesimo Busto dà Rios un pallone eccellente, ma la conclusione del numero 11 viene deviata in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Mazzetti si esibisce in una splendida parata negando la gioia del raddoppio a Viviani. La ripresa si apre con una doppia occasione per i padroni di casa. Non passa nemmeno un minuto che Martinez sfrutta un rimpallo calciando dai 18 metri, costringendo il portiere a deviare oltre la traversa. E ancora Martinez a essere pericoloso al sessantesimo con un tiro da fuori. Il primo vero squillo degli ospiti si registra un minuto dopo con Rebucci, che ci prova da buona posizione. Al settantaquattresimo Emento a calciare alto appena entrato in area su assist di Dal Paos, mentre al settantasettesimo lo stesso giocatore si crea lo spazio per una conclusione di sinistro da fuori area, accogliendo in pieno la base del palo a Mazzetti battuto. Gli ospiti provano a sfruttare la loro fisicità scodellando diversi palloni in area e cercando di sfruttare rimpalli favorevoli, come al settantanovesimo, quando Rebucci mette in rete sugli sviluppi di una carambola, ma il guardaline segnala un fuorigioco. All'ottantunesimo Emento sfiora il palo alla destra del portiere ospite con un tiro dalla distanza. Gli ultimi episodi da segnalare sono l'espulsione di D'Andrea al novantunesimo per un intervento pericoloso e la conclusione di Carra al novantasesimo, con la palla che si perde di poco lato, il triplice fischio liberatorio per la Castellina, e ora Mr. Bolzan deve preparare la trasferta di Soncino. Secondo me abbiamo fatto un discreto primo tempo, l'abbiamo anche approcciato bene il secondo tempo, dopo alcuni errori individuali ci hanno portato in sicurezze. Questo non va bene perché io credo che questa squadra si senta un po' sotto pressione, alla prima difficoltà un attimino inizia a dubitare, questo non va bene, però con calma, con lavoro, sicuramente troveremo il giusto equilibrio per far sì che vengano fuori le vere qualità che ha questa squadra qua. No, ovviamente è combattuta, è l'orme squadra fisica, è venuto a fare la sua partita, ma noi abbiamo proposto un bel gioco, ovviamente che era difficile dopo quattro partite senza vittoria, ma è importante sempre vincere, siamo contenti, ovviamente è molto difficile il momento dopo, ripeto, quattro partite senza vittoria, ma tornare a vittoria ovviamente che dà fiducia, però piano piano ancora è lunga e dobbiamo essere tranquilli. Questa era la nostra ultima notizia, buon proseguimento con i programmi di Unica TV.